Orientamento formativo ed esperienze lavorative sono le maggiori esigenze richieste dai giovani di Sondrio, che oggi si affacciano al panorama occupazionale. Sulla scia di questi bisogni crescenti, l'informa giovani del capoluogo amplia la sua attività e cambia sede, trasferendosi nella struttura della Biblioteca Pioraina, punto di riferimento di aggregazione per ragazzi e studenti. Dopo quasi otto mesi di stallo, il centro affidato al Consorzio Il Surco si rinnova e si presenta al pubblico con le sue numerose attività in cantiere. Fra queste è lo spazio estero, frutto della preparazione degli ultimi mesi all'interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro, condotto assieme a quattro studenti del capoluogo. Offriremo ai ragazzi la possibilità di fare consulenze su esperienze di studio all'estero, quindi sia a livello universitario che di scuola secondaria e di secondo grado, ma anche esperienze di lavoro alla pari, campi di volontariato. Già oggi, cioè questo evento, oggi pomeriggio sul tema del lavoro in Australia, abbiamo creato una bellissima varietà di offerta e ci sentiamo preparati nel consigliare ragazzi, giovani e famiglie rispetto a queste esperienze. Lo spazio estero non sarà l'unica bussola offerta al crescente numero di giovani, soprattutto adolescenti, che periodicamente si rivolgono allo sportello. Ben 200 ragazzi che hanno fatto riferimento lo scorso anno ad Informa Giovani, con altri 1000 coinvolti in progetti ed iniziative. Il fatto che siamo in biblioteca, che è un luogo comunque frequentato e la biblioteca di Sondrio ha una visione di apertura molto bella, molto importante anche rispetto al territorio. Il fatto di avere dei ragazzi stessi che ci aiutano nel promuovere, utilizzando anche i loro di canali, mi viene da dire, quelli più attuali, più affini a quelle che sono le loro caratteristiche di comunicazione e il fatto di portare ambiti molto diversi e variegati, ma di effettivo interesse per i ragazzi, su cui portare informazioni, secondo noi, unita alla preparazione degli operatori che lavorano lì, sono gli ingredienti vincenti per riuscire ad arrivare, come dire, ad essere un bel punto di riferimento per i giovani e ragazzi del territorio. Tra le altre novità, lo spazio TIN, dedicato ai minori e alle famiglie interessate a svolgere esperienze estive in Italia e nel resto d'Europa. Lo sportello sarà aperto lunedì dalle 16 alle 18 e il mercoledì al venerdì dalle 14 alle 16. Grazie a tutti.